gentili telespettatori buona giornata gennaio adeguamento dell'inflazione o meglio adeguamento delle pensioni all'inflazione gli assegni saranno più alti a gennaio del 7,3 per cento più l'aumento di novembre del 2,2 abbiamo un 9,5 per cento di aumento delle pensioni proprio per l'aumento dell'inflazione l'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi medio aumento medio e così il ministro Giancarlo Giorgetti dell'economia e delle finanze firma il decreto che dispone a partire dal primo gennaio 2023 un adeguamento pari a più 7,3 per cento delle pensioni leggermente meno di quanto era stato previsto lo si legge in una nota secondo cui l'aumento come previsto della normativa vigente viene calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata nell'indice dei prezzi al consumo forniti dall'istat il 3 novembre quindi manca tutto novembre e tutto dicembre ma probabilmente poi ci dovrà essere un adeguamento se l'inflazione a fine anno chiuderà con un prezzo molto più alto intanto già questo novembre i pensionati vedranno il loro assegno almeno fino a 2.692 euro lordi mensili crescere del 2 per cento rispetto agli importi fissati a inizio 2022 in sintesi sono stati prorogati gli aumenti già concretizzatisi a ottobre al calcolo bisogna aggiungere uno 0,2 per cento legato al conguaglio tra l'indicizzazione applicata inizio anno e quella derivata dall'andamento dei prezzi del 2021 quindi un 2,2 per cento a novembre e un 7,3 per cento con il primo di gennaio e poi bisogna ricordare che c'è anche un bonus 150 euro allora chi ha un reddito pensionistico che non supera i 20.000 euro possono beneficiare del bonus 150 euro introdotto dal decreto aiuti terzo una pensione di 1500 euro lordi al mese l'incremento sarà di 33 euro lordi mentre per una pensione da 2000 euro sarà di 44 euro in termini di netto ovviamente si parla di cifre inferiori allora da gennaio rispetto a ottobre di quest'anno a gennaio con l'aumento del 7,3 più il 2,2 abbiamo un 9,5 per cento una pensione di 1000 euro diventerà 1095 euro al primo di gennaio si sommerà l'aumento del 2,2 per cento di novembre più il 7,3 per cento di di gennaio totale totale 95 euro su 1000 euro su 500 euro fate la metà quindi una pensione di 1000 euro diventa 1095 euro con il primo di gennaio poi se l'inflazione sarà al 10 11 12 per cento ci sarà una sorta di adeguamento in corso d'opera possiamo dire possiamo dire così intanto torniamo alle solite polemiche un po così un po senza senso la serracchiani che dice la costituzione in pericolo ma in pericolo di che cosa ma non sei la sinistra che ha cambiato la costituzione 48 volte non hanno mai gridato al pericolo nessuno oggi pericolo per la costituzione ma perché cosa quale sarebbe questo pericolo beh la serracchiani parla delle norme anti rave la sinistra è ossessionata da questo è un posto di spicco in questa ossessione lo diamo a debora serracchiani che sul podio dei primi tre a sky tg 24 la deputata piddina dice e offre interpreta personalmente il cosiddetto decreto rave che poi non si parla di rave in questo decreto dice pericolo per la costituzione noi abbiamo l'articolo 17 che tutela a livello costituzionale la libertà di riunione quella norma è scritta in modo così generico da mettere a rischio quel principio fondamentale della costituzione colpite l'illegalità non il dissenso ma in realtà l'obiettivo del governo non era colpire il dissenso ma l'illegalità si sono d'accordo che una norma scritta molto generica andrebbe specificato restringendo il campo perché così potrebbe essere utilizzata anche per una riunione sindacale in un cinema per esempio la metteranno a posto poi il capo dello stato l'ha anche firmata perché non è stato rilevato nessun nessuna interferenza con la costituzione nel caso poi dovesse esserci un'applicazione che va contro la costituzione poi interviene può intervenire la magistratura quindi cara sinistra voi sapete perfettamente che in italia ci sono dei meccanismi a scatole una sopra l'altra che fermano tutti i tipi di pensieri dittatoriali o di sovvertimento delle istituzioni nazionali pertanto tranquilli state tranquilli a sinistra che non c'è nessun pericolo per la costituzione nessun pericolo per le libertà per i diritti civili oggi c'è un governo di destra che racchiude le idee di sinistra e di destra oggi tutto quello che era sinistra la difesa degli ultimi è tutto a destra la meloni racchiude due poli in sé voi direte è così è così la sinistra ormai una scatola vuota quel poco di buono che c'era dentro è finito a destra e oggi è tutto a destra qualsiasi cosa la trovate lì alla sinistra cosa rimane dire che c'è un pericolo per la costituzione cosa che non è vera però però nella loro mente si materializzano questi pericoli no chi c'è chi c'è là nell'angolo chi c'è c'è qualcosa lì nell'angolo il pericolo per la costituzione o per dindirindina va bene grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti e arrivederci a presto ricordatevi tele italia seconda rete in cucina con carla con la k carla con la k buona giornata grazie a tutti